E' una delle strade più pericolose d'Abruzzo, teatro di molteplici incidenti, anche mortali. E' la strada denominata Cintarella, nella Piana del Fucino. 9 km di asfalto a servizio del complesso di Telespazio, azienda tra i principali operatori al mondo nel campo dei servizi satellitari, situata proprio nel cuore della Piana del Fucino. Gli operatori di Telespazio e tutti coloro che giornalmente percorrono quella strada attendono la messa in sicurezza dal 2015, da quando ciò è stato siglato un accordo di programma tra enti locali per l'esecuzione dei lavori. Per chiedere la definitiva sistemazione della strada affinché non ci siano più vittime di incidenti, si è formato un comitato perché a distanza di più di un anno dai primi parziali lavori di messa in sicurezza non è stata rilevata più alcuna attività di cantiere. Lo scopo della nascita è quello che già a suo tempo di un precedente comitato è quello di sensibilizzare gli enti istituzionali affinché riprendano immediatamente i lavori visto lo stato manutentivo della strada stessa piena di buche. Il comitato rileva le palesi violazioni rispetto ai contenuti dell'accordo che prevedeva che i comuni interessati si impegnassero a consentire la realizzazione degli interventi. L'accordo di programma è stato proprio sancito la pericolosità della strada e i lavori che dovevano essere fatti erano la messa in sicurezza della strada con guardrail, segna delica orizzontale, verticale e manto stradale. Chiaramente i soldi per tutto al momento non c'erano, sono stati utilizzati una parte di quelli già liberati che erano circa 900.000 euro, circa 600 sono stati già spesi, 400 erano da spendere. Parliamo di una percorrenza di dai 300-400 persone al giorno.